Stefano Morero oggi a Chiarasco per l'inizio dei lavori per la nuova Chiaraschese, una piazza importante che riparte con la volontà di rimediare a una stagione sfortunata come quella in eccellenza, ti chiedo qual è lo spirito con la quale... Sicuramente come hai detto te la piazza è importantissima questa qua e non merita assolutamente la categoria in cui è in questo momento qua, ci saranno stati dei problemi ma sicuramente saranno risolvibili nel corso della stagione e nel corso degli anni, questo ne sono certo. Le mie sensazioni qua sono state subito ottime, ho parlato sia con il direttore che con il presidente che con il mister e che con alcuni compagni quindi sono contentissimo di essere qua ed è stata la scelta che ho fatto fin da due mesi fa e la porto avanti tuttora con molta felicità guarda te lo dico sinceramente. Cominciamo oggi, siamo contenti di partire oggi, saranno due settimane di preparazione intense, lo accelereremo tutti i giorni perciò sarà molto dura ma cercheremo di arrivare presto al primo possibile per poter far bene sia nella Coppa Italia che giocheremo mi sembra il 2 di settembre quindi cercheremo subito di far bene. Siamo una bella squadra, siamo giovani perciò è anche importante noi vecchi come ho sentito prima che diceva il Marengo, noi vecchi tra virgolette di trascinare un pochino anche i giovani e secondo me possiamo fare veramente bene. Che campionato vi aspettate? Parlando anche con il mister cerchiamo di fare un campionato di alta classifica sicuramente l'obiettivo non è con tutta onestà e con tutta umiltà lo dico non è quello di vincere ma comunque quello di poter fare un campionato di vertice di alta classifica poi se si può fare qualcosa di più è sempre ben accetto quello sicuro.